The Tuesday Tapes dal vero ogni settimana alle 21 su Casa Bertallò e questa è l'ultima puntata della terza stagione di Tuesday Tapes dobbiamo dire che ci pigliamo un po' di mesi di vacanza un bel po' di mesi direi che se va bene ci risentiamo a metà di ottobre ma nel frattempo naturalmente non è che speriamo nel nulla rimane una fantastica se possibile ancora meglio del solito pagina Facebook che si chiama The Tuesday Tapes come noi in cui intanto partirà una rubrica che già la scorsa estate l'abbiamo fatta che si chiama Teche Teche Tapes in cui in pratica rimetteremo in circolazione le vecchie puntate di Tuesday Tapes e poi naturalmente comunque l'attualità la commentiamo in ogni caso le cose nuove le segnaliamo in ogni caso i concerti interessanti, gli set interessanti quelli ne parliamo in ogni caso allora un ringraziamento va più del solito in apertura di puntata oggi per l'intera stagione a Alessio Bertallò che ci ha ospitato come sempre dentro cosa sua e dentro la sua radio a Federico Ricciardi che ha ottimizzato e anche oggi otimizza la parte web a Michele Casche anche stanotte si occupa della parte tecnica un saluto comunque anche a Raimondo Mayra che in ogni caso spesso è stato parte del team e per finire un saluto anche a DJ Fiore che in qualche maniera ha sempre stato una specie di figura e simbola di questo programma allora come apriamo questa notte il programma? lo apriamo con un personaggio che si chiama Perfume Genius è un produttore di Seattle ma in realtà lui è nato cioè i genitori suoi sono greci lui è nato a Seattle e comunque vive insomma da quando è nato in America si chiama Mike Andreas di vero nome lo scorso anno quindi un bel po' di tempo fa Perfume Genius ha pubblicato il suo quarto album che si chiamava No Shape in questi giorni invece è uscito un EP che si chiama Reshaped in cui in pratica Perfume Genius ha selezionato un po' di remix di pezzi appunto del suo vecchio album purtroppo l'EP di remix è molto brutto secondo me per cui ho detto andiamoci a risentire l'album originale sentiamo se suona bene e suona veramente benissimo questo è un pezzo che si chiama Run Me Through lui è Perfume Genius benvenuti a Tuesday Tapes a personale Pity deep-lined eyes rough as last night sharp as mere broken tube Grazie a tutti 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 Yeah Grazie a tutti 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 Dal secondo Grazie a tutti 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 Love is Grazie a tutti 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 Grazie a tutti